Rilanciare il ruolo dei centri e degli istituti di formazione professionale per dare un futuro lavorativo ai giovani e agli adulti è la finalità principale del progetto T-Lab presentato nella sala della musica della fondazione Cosway di Allodi. Dopo l'introduzione di Marina Aratto, direttrice del centro di formazione professionale Calam, ente capofila del progetto, la parola è passata Carla Marzoleni dell'ufficio di piano di Lodi. A lei è aspettato il compito di illustrare il progetto triennale finanziato con quasi 2 milioni e 800 mila euro dalla fondazione Cariplo e dalla regione Lombardia. Per superare i pregiudizi delle famiglie nei confronti della formazione professionale e per rilanciarla con l'obiettivo di far incontrare domande e offerte di lavoro, i sei centri presenti nel Lodigiano attiveranno percorsi formativi specifici attrezzandosi con appositi laboratori. Per la loro realizzazione se ne andranno quasi 2 milioni di euro a conferma delle buone intenzioni del progetto T-Lab. Avviato nel settembre dell'anno scorso, il progetto entra ora nella sua fase più critica, coinvolgere gli studenti che vogliono valorizzare i loro talenti nel saper fare. È una opportunità da accogliere, ha tenuto a ribadire l'assessore regionale Guido Guidesi, nell'intento di consentire ai giovani di trovare lavoro nel proprio territorio senza dover andare altrove. Pierluigi Carabelli della fondazione Cariplo ha confermato il pieno sostegno a questa iniziativa che potrebbe far cambiare il giudizio sulla formazione professionale già sperimentata con successo altrove. Fare rete si sta dimostrando la via più efficace per risolvere i problemi, invece ha affermato Mauro Parazzi della fondazione comunitaria ribadendo che il saper fare con passione può essere altamente gratificante per un giovane. Dopo l'intervento di chiusura di Giovanna Gargioni, presidente della conferenza dei sindaci dell'ambito di Lodi, Vittorio Boselli di Confartigianato Imprese ha osservato che il cammino intrapreso è tutto in salita ma può aprire interessanti prospettive di crescita professionale e umana a giovani ed adulti alla ricerca di un lavoro che li soddisfi pienamente.